Mi raccomando, per favore, sarebbe opportuno, sapete che io non ne ho bisogno, lo faccio per questa povera gente comunista, se donaste un po' di soldi a questi bravi ragazzi, li ho conosciuti, sono stati molto bravi, caparvi, interessanti, impegnati nel loro lavoro, non come quei comunisti vergognosi. Ho conosciuto anche Licio Gelli, ben ragazzo oltretutto, quindi io vi chiedo una donazione, fatelo col cuore, ve lo chiedo ad un ragazzo ancora un po' stagionato. Ma con il cuore sempre giovane.